Grazie a tutti. A livello regionale si è fatto carico di ospitare la manifestazione e di organizzarla. Felice Ravalli, Presidente dell'Associazione Cittadini Centro-Est, buonasera Ravalli. Buonasera. Allora dunque, sabato 27 luglio, quindi tra sette giorni, ne parliamo con un po' di anticipo anche per raccontare di cosa si tratta, Miss Fantastica 2013, concorso nazionale di talento televisivo per ragazze e coppie dai 13 ai 25 anni che sappiano, scrive sul manifesto, ballare, cantare, recitare e sfilare. Allora che succede?